buonasera a tutti sono molto contenta di essere qui con simona loiacolo una delle autrici che ha veramente rubato il mio cuore si parla di innamoramento letterario questo è accaduto tutto è partito con il mistero di anna il libro di cui parliamo questa sera ma ammetto che da questa ultima opera e speriamo che ne arrivi presto un'altra di simona io ho iniziato poi a prendere le altre le ho quattro altre laggiù che adesso non vado a recuperare ma grazie intanto simona per la tua disponibilità per la chiacchierata grazie a te grazie a te guarda mi hai rapito veramente dalle pagine perché nel mistero di anna noi abbiamo il mondo delle parole il potere delle parole poetiche specialmente quindi quelle parole che in qualche modo migliorano il mondo migliorano la vita e anna benché abbia soltanto undici anni sa bene come dividere le parole e come riflettere sulle parole pur avendo una formazione ingenua o forse userei dire che è proprio grazie a quella ingenuità che sa come guardare il mondo c'è un'innocenza positiva pura e quindi vorrei proprio chiederti come hai creato il tuo personaggio e come hai pensato di parlare di questa bellezza delle parole grazie tesoro grazie di tutto e anche per la pazienza nell'avermi assistito anche dal punto di vista telematico allora la piccola anna è nata come nascono i personaggi quindi è affidata la sua nascita a un mistero perché in fondo nessuno può veramente dire in che modo affioria la coscienza la voce il timbro anche l'esistenza stessa del personaggio è qualcosa che probabilmente cova al nostro interno per tanto tempo e che poi salta fuori nel momento in cui noi stessi siamo pronti a ricevere il dono a dipanare un po' le ragioni anche del suo rivelarsi e a raccoglierlo a raccoglierlo e raccontarlo quindi difficilissimo dire in che modo tutto questo si verifichi perché fa parte di quella zona così un po' d'ombra che caratterizza sia la nostra coscienza che anche la parola letteraria quindi annuzza come la chiamo io si è manifestata all'improvviso e con una voce più che con una dinamica di natura proprio esistenziale io ho ascoltato subito il timbro della vocetta di questa bimba che poi è quello che si può leggere dalle pagine perché fin dal principio lei ha avuto quella intonazione quella caratteristica che sta nel trovarsi un po' a metà tra un gergo ecco parlato semplice perché una bambina piccola dialettale con impennate però di rivelazioni di libismo e di poesia mi si è rivelata così ma sicuramente per l'esperienza che ormai ormai ho dei personaggi dormiva dormiva all'interno ecco del mio cuore all'interno delle esperienze che poi sono maturate e poi si è rivelata come ti dicevo quando io ero pronta a riceverla quindi nasce così però fin dal principio mi è stato chiarissimo dalla vocina che appunto arrivava con questo suono insistente all'orecchio e risaliva perché poi queste voce queste voce risalgono le cavità interiori e si preparano ad avere un'esistenza autonoma però sapevo che questa bimba aveva un candore particolare questo sì l'ho compreso immediatamente quindi quindi una innocenza che le consentiva a differenza del mondo adulto di contemplare il mistero dell'esistenza con grande stupore con una patina di assoluta capacità di saper cogliere anche ciò che non è detto anche ciò che non emerge alla vista anche tutto ciò che è nascosto perché per Anna è naturale è ancora in quella in quella fase appunto tipica dei bambini in cui non c'è alcuna difficoltà ad immaginare che dentro la favola si nasconda la verità o che tutta tutta la dinamica del creato abbia degli ingranaggi miracolosi trascendenti per un bambino è facile accedere al mistero perché se lo è appena lasciato alle spalle e questa dimensione dello sguardo mi era molto cara mi era molto cara ho sempre pensato a prescindere dalla piccola Anna che fosse veramente una qualità dell'impatto tra anima e esterno che dovesse essere preservato dalle intemperie della vita dalla corruzione inevitabile della società del tempo degli errori umani cioè la strada che facciamo dall'infanzia fino all'età adulta in qualche modo ci fa perdere questa primissima e incontaminata possibilità che noi abbiamo di accedere all'esistenza ma anche alle ragioni dell'esistenza io credo che quella sia la parte più vera la parte più immediata e anche quella che sa meglio interpretare le dinamiche silenziose solo che poi lo dimentichiamo perché il mondo la vita la crescita in qualche modo ci portano un po' al di là e ci fanno perdere quella patina tutta impastata come ti dicevo di innocenza ma anche sì di purezza perché di questo si tratta lo stupore che è proprio quello che si involge da vicino il lettore lo trasporta in questo piccolo grande mondo che poi si perde e che invece sarebbe un alleato validissimo soprattutto in età adulta per affrontare con una forza d'animo ma anche con una capacità di ascolto e di maturazione spirituale non indifferente per affrontare l'esistenza la piccola Anna quindi mi piaceva molto per questo non appena si è si è palesata certo lei ancora piccola ha uno sguardo sul mondo su tutto suo anche perché comunque viene da una realtà non semplice da una situazione familiare di povertà però lei ha un grande sogno che appunto quello quasi di fare l'artista di riuscire a coltivare le parole di conoscere da vicino qualche artista che associa l'idea di pazzia per quello che le fanno un po' credere anche perché diciamocelo il suo è un mondo in cui è ben difficile sognare cioè ci sono delle necessità così pragmatiche così quotidiane da portare Anna a pensare un po' ad altro dirle ma cosa ti viene in mente la poesia eccetera persino la maestra non sembra capire questa invece grandissima predisposizione della bambina per usare di dire talento per il mondo poetico ma l'occasione arriva ed è l'occasione che porta anche noi lettori a fare un viaggio straordinario attraverso lo spazio attraverso il tempo perché dalla sua Siracusa diciamo che Anna all'occasione della sua vita vera propria vincendo un concorso ce ne parli? Eh sì appunto la piccola Anna come dicevi tu ha questo candore questa capacità di saper cogliere tutto ciò che è incontaminato e certamente questa sua dimensione è acuita dal fatto che è una bimba che proviene da un contesto sociale ed economico molto disagiato il papà è un disoccupato la mamma come dice lei fa la sarta al domicilio delle clienti quindi la famiglia vive con poco e la bambina quindi è tutta calata in una dimensione della realtà fatta di grandi privazioni ecco nonostante questo ha questa passione ma anche questa intuizione relativa alle cosiddette parole poetiche come le chiama lei cioè Annunza capisce che la poesia la parola letteraria che le arriva dai testi scolastici che sono gli unici dai quali può attingerla però questa parola letteraria ha veramente la capacità di allargare lo sguardo di contaminare il suo cuore di suscitare grande emozione compassione e anche condivisione con il dolore del mondo lei capisce che nella poesia si annida certamente un mistero e quindi vuole conoscere un poeta uno scrittore qualcuno che conosca le parole poetiche che faccia eterna la realtà e quindi quando la maestra scuola annuncia che il ministero della pubblica istruzione ha indetto un concorso e che questo concorso consiste nello scrivere una lettera raccontando la propria giornata ad una famosa scrittrice la piccola Anna non se lo fa ripetere due volte perché finalmente è l'occasione da tanto tempo attesa per mettersi in relazione con uno scrittore quindi con qualcuno che ha dimestichezza con l'uso delle parole e la bimba scrive questa questa lettera raccontando con grande semplicità la propria giornata ma anche in fondo con una ironia con una capacità di saper guardare ai propri guai però con una dimensione dello sguardo che certamente trapassa il cuore ma anche la geografia gli elementi geografici e da sinacusa si dirige a milano dove abita la destinataria appunto di questa lettera che è Anna Maria Ortese che ha appena vinto siamo nel 68 il premio strega con il romanzo poveri e semplici e quale non è lo stupore della piccola Anna nell'apprendere e che il concorso ha anche un premio e che questo premio consiste nel vivere una settimana a Milano con la grande scrittrice nello stupore generale perché nessuno si aspettava che una bimbetta come Annuzza così defilata così malmessa e così poco in fondo rappresentativa anche insomma di un certo ceto che frequenta la la sua scuola potesse vincere nello stupore generale la lettera della piccola Anna Cannavo viene selezionata e alla bimba anzi al suo papà tutta la famiglia viene comunicato che finalmente potrà partire alla volta di Milano e conoscere quella che lei chiama la signora Anna cioè la scrittura Maria Ortese per trascorrere insieme a lei addirittura una intera settimana e quindi al cavallo del 1 e del 2 novembre cioè proprio in procinto delle festività dei defunti la piccola Anna accompagnata dalla sua maestra si appresta a fare questo viaggio che le cambierà la vita che le consentirà anche di scrutare orizzonti assolutamente inesplorati che mai avrebbe pensato di poterli attraversare e le consente anche di conoscere la grande Anna Maria Ortese esatto e va detto che già il viaggio di per sé è un'avventura perché comunque questo spostamento in treno con tutte le ore che richiede è visto proprio anche questo come qualcosa di poetico al contrario di come lo vive la maestra devo dire ecco che leggendo questa disparità di approccio alla vita è incredibile questa maestra che fa di tutto per tagliare le gambe a qualsiasi tentativo della piccola Anna di penetrare la verità di andare al di là del puro aspetto della pura apparenza è incredibile ecco così come prima d'altra parte tu stessa mi hai detto nessuno credeva che potesse vincere e anche le parole del direttore sono terribili perché proprio minano l'autostima di chiunque ma non quella di Anna che è così determinata nel ricevere il suo figlio e andare a conoscerlo soprattutto e qui oltre che determinata è proprio inconsapevole nel senso che Anna non concepisce nemmeno ecco malvagità nel pensiero degli altri o una interpretazione in qualche modo affidata ad altre dinamiche lei è talmente presa da tutto ciò che le sta accadendo da sorvolare con una capacità assolutamente ecco miracolosa di grande leggerezza e di andare dritta all'obiettivo proprio perché il suo desiderio è quello di approdare alla conoscenza di un poeta e da lì grazie appunto allo sguardo ribassato di Anna la sua purezza suo approccio alla vita ci presenti un'Anna Maria Ortese inedita che però ecco risponde molto bene alla sua biografia e che però è un'artista complessa dal carattere imprevedibile quindi non è che la piccola Anna si troverà immediatamente accolta dalla grande Anna come forse chissà si sarebbe aspettata ma c'è qualcosa di più c'è qualcosa che la porterà anche a crescere adesso senza fare spoiler cosa possiamo dire per così incuriosire i nostri lettori che ancora non hanno letto il libro allora possiamo dire questo che quando Annuzza Cannavò nel 1967 arriva in via Molino delle Armi ai Navigli dove Anna Maria Ortese viveva in quegli anni dopo avere girovagato per mezza Italia a causa di grandi problemi di indigenza ma anche di requietezza si ritrova davanti non una signora Anna una sola signora Anna come le immaginava bensì due signore Ortese anzi per meglio dire due signorine Ortese perché Anna Maria è in compagnia della sorella Maria quindi la bambina si ritrova catapultata in una coppia di sorelle che hanno delle caratteristiche familiari comune una storia naturalmente legata ad un passato che le ha unite e che ha consentito loro di percorrere tanta strada vitale insieme però anche di fronte a due nature completamente diverse tanto Maria è delicata e accudente tenera e in fondo estroversa la bimba dice che fa tante delicatezze e tanto Anna Maria invece rude e rude e forse anche scontrosa e certamente all'inizio incapace di intrattenere immediatamente un rapporto relazionale con la bimba proprio perché ha qualche diffidenza che fa parte un po' del suo carattere ma non perché sia ecco legata a una visione negativa della vita ma perché una donna che ha sofferto e che nella sofferenza ha scontato ha patito tante tante vicende quindi è guardinga cosa che Maria pur avendo altrettanto diciamo vissuto in situazioni di disagio non ha quindi la bimba si trova in questa coppia un po' sbilanciata in cui Maria le mostra subito una tenerezza materna invece Anna Maria ha questo impatto che però Anna Cannavo saprà infrangere con le sue caratteristiche con la sua capacità con l'amore comune che le due hanno per la parola per la letteratura e questo è incredibile e bisogna anche dire che noi possiamo accedere alla dimensione interiore di Anna Maria Ortese non soltanto attraverso questo piano della narrazione ma anche attraverso delle lettere che intervallano la narrazione della piccola Anna quindi si cambia tutto si cambia lo stile si veramente si sperimentano e si toccano altri generi si parla di letteratura di meta letteratura a un certo punto e si parla anche della difficoltà che dicevi tu di adesso non so se lo trovo io ci provo di vivere ecco so per esperienza che la quotidianità di una donna di lettere sprovvista di mezzi di sostegno è difficilissima lo dirà non direttamente Anna Maria ma la sua interlocutrice la destinataria delle sue lettere e va detto che questo elemento si percepisce così come si percepisce una sorta di maledizione straordinaria e fascinosissima della letteratura dell'ispirazione di quello che non si può fare a meno di fare cioè scrivere nonostante tutto nonostante le difficoltà ed è così che piano piano le opere di Anna Maria Ortese entrano nel tessuto di questo romanzo quindi vorrei proprio chiederti come hai scelto di scrivere lettere o meglio di dare voce ad Anna Maria in queste lettere e se è una scelta che così è nata fin dal principio della stesura di questo romanzo in un secondo momento allora no la prima cosa che si è manifestata come dicevo prima è stata la vocetta di Anna subito dopo mi è stato chiaro che Anna voleva assolutamente entrare in relazione con uno scrittore è la scrittrice del mio cuore è sempre stata Anna Maria Ortese quindi la relazione con Anna Maria Ortese è venuta su immediata ed è stata probabilmente ecco quasi nemmeno pensata ma si è imposta proprio perché dicevo che tutto ciò che in realtà dorme sedimenta all'interno del nostro cuore poi trova una strada per affiorare invece l'idea di narrare la storia e la biografia di Anna Maria Ortese e su un secondo piano narrativo si è imposta strada facendo perché via via che la piccola Anna entrava in relazione con Anna Maria Ortese quindi tanti tanti momenti della sua vita venivano allo scoperto e la bambina iniziava in qualche modo a intuire i retroscena di tutto ciò che aveva preceduto la sua carriera di scrittrice e anche i dolori e le sofferenze si è imposta la necessità di dare anche al lettore una chiave di lettura e scusando il visticcio di parole cioè di fargli comprendere e che cosa ci fosse dietro tutto il percorso narrativo della scrittrice quali travagli quali tempi perché è una donna che attraversa due guerre nasce anzi proprio alle soglie della prima guerra mondiale il 13 giugno del 1914 qualche giorno dopo divampa la prima guerra attraversa il nostro novecento praticamente sfiorando grandi temi non soltanto del nostro secolo ma anche le grandi tragedie quindi la seconda guerra mondiale tutto il dopo guerra ecco si è imposta poi l'esigenza di far comprendere al lettore perché Anna Maria Ortese avesse quell'impatto all'apparenza un po' scostante con la bimba e che cosa si agitasse quali ehm grandi substrati e anche elementi ehm di di profonda ferita avessero interferito con tutta la sua vita quindi questa esigenza è nata dopo a quel punto una volta che ho compreso che anche il lettore doveva sapere qualcosa di Anna Maria Ortese come sapevo io perché in realtà io avevo tanto letto la Ortese poi ehm avevo iniziato a scandagliare la sua biografia quindi io sapevo tanto di lei però mi rendevo conto che invece il comune lettore eh potesse ignorare tanti eh snodi della sua vita ecco che a quel punto mi è venuta eh in mente l'idea ehm di far raccontare ad Anna Maria Ortese stessa la sua vita eh quindi eh con una dimensione dello sguardo molto soggettiva con un mio narrante non mi piaceva però ehm intervallare perché mi pareva troppo autoreferenziale con un altro scritto in prima persona e allora ho pensato ad un tu ad una relazione e lì è arrivata l'interlocutrice di Anna Maria Ortese perché il libro come tu hai anticipato si snoda su questi due piani narrativi da un lato c'è la piccolissima Anna che racconta la propria vicenda roccambolesca la vincita del concorso e lo fa eh tracciando queste sue parole questi suoi pensieri in un diario che parte dal settembre del 1968 cioè dall'apertura dell'anno scolastico da altro lato quindi su altro piano narrativo c'è uno scambio epistolare tra Anna Maria Ortese che si racconta in prima persona e una interlocutrice molto misteriosa che si firma soltanto R e della cui identità eh il lettore e scoprirà qualcosa solamente alla fine quindi alla fine di questo scambio di voci ecco esatto non dirò nulla dico soltanto che alla fine di tutto questo scambio di voci la storia della piccolissima Anna la narrazione in prima persona eh attraverso lo scambio epistolare di Anna Maria Ortese la vicenda della medesima interlocutrice cioè di questa signora R che a sua volta racconta il proprio passato il proprio vissuto ecco alla fine queste voci si intrecceranno e il lettore scoprirà una dinamica nascosta all'interno del romanzo eh che si rivelerà solamente nelle ultimissime pagine e infatti guarda devo dire è un romanzo complesso lo possiamo leggere sotto moltissimi punti di vista potremmo vederlo come un grande romanzo di grandi donne piccole grandi donne potremmo vederlo come anche un romanzo che attraversa il tempo e lo racconta come un omaggio alla letteratura come tantissime cose e c'è un tema che benché un po' secondario sullo sfondo mi ha colpito moltissimo che è questo sguardo sull'istruzione l'istruzione che per Anna può essere ciò che le darà una svolta ma è anche ciò che è un po' paludato è un po' bloccato lì è un'istruzione nozionistica becera se vogliamo che non vuole far sviluppare i veri talenti anzi che è spaventata dai talenti dei degli scolari come Anna ecco e questa dimensione mi è piaciuta molto anche perché in una delle lettere si legge vediamo se lo trovo subito ecco ecco Anna Maria Ortese scrive a R avrei voluto essere una delle sue allieve avrei voluto avere maestri che inventano classi nei vagoni insegnano incuranti dell'età e indicano come strada per crescere quella della contemplazione io me lo sono sottolineata subito perché questi di tenerci un tempo uno spazio che anche uno spazio mentale uno spazio emotivo dedicato alla contemplazione mi ha molto affascinato specialmente se estrapoliamo questa frase la caliamo nei nostri tempi dove invece contemplare sembra una perdita di tempo quando tutto va veloce abbiamo mille stimoli e quindi proprio per questo vorrei chiederti se secondo te è ancora possibile una scuola così e se la lettura in questo può avere un qualche ruolo non è solo possibile è urgente è urgente perché sicuramente la lettura è uno strumento di contemplazione perché ci riporta al centro di noi stessi esige lentezza esige riflessione esiste esige capacità di immaginazione perché quello che leggiamo noi lo trasformiamo attraverso la fantasia in immagini nella nostra mente e creiamo il fondo dei personaggi attraverso la nostra sensibilità filtrando la parola scritta ma è essenziale perché la contemplazione che in apparenza un'attività inutile perché che cosa vuol dire contemplare vuol dire prendersi del tempo per ascoltare per ascoltare attraverso il silenzio attraverso la capacità di mettersi in relazione con gli elementi invisibili che ci circondano e quindi di scoprire e capire attraverso questa attività che è riflessiva e anche in qualche modo legata alla tenerezza all'amore nei confronti di ciò che ci circonda significa scoprire attraverso questa attività che probabilmente noi non viviamo nella quotidianità al nostro vero livello di coscienza e che quindi ciò che in realtà affrontiamo è molto epidermico e molto superficiale se vogliamo invece trovare veramente la nostra parte più vera la più intima quella la quale siamo davvero vocati chiamati e da lì anche la nascita della vocazione dobbiamo scendere ad un livello differente scendere o forse sollevarci ad un livello differente anche un livello che non è no scusami anche provando lo stesso stupore che ha della piccola Anna stupore ma soprattutto la capacità di trasformare questo stupore in capacità relazionale con gli altri ma anche col mondo che ci circonda perché la la piccolissima Anna cosa fa ha questo approccio contemplativo stupefatto nei confronti della realtà però non resta a questo livello non è soltanto un modo che lei ha di percepire il creato gli altri no lo trasforma lo trasfigura nella relazione con gli altri infatti la relazione che Anna ha con Anna Maria Ortese con la sorella Maria ma in fondo anche con figure che non non le mostrano simpatia umana e cioè col direttore scolastico con la maestra ecco questa relazione che ha è una relazione benevola cioè è una relazione caratterizzata mai da avversione da ostilità ma da una grande apertura quindi cosa fa la contemplazione trasforma la riflessione sulla nostra vera natura che si gioca più sul piano del trascendente che dell'immanente in una relazione sana con gli altri ecco allora che tutto il mondo della piccolissima Anna anche la sua capacità poetica in verità non è così inutile come in apparenza potrebbe sembrare perché tutto ciò che riguarda la lentezza la contemplazione la riflessione sembra attività inutile quindi non produttiva assolutamente in idonea ad entrare nel nostro mondo che invece un mondo competitivo che dà molta importanza al grafico della produttività quindi in apparenza è l'attività più inutile che si possa immaginare quella poetica quella fantasiosa quella contemplativa in realtà è la più necessaria a trasformare il cuore e a trasformare le relazioni con gli altri e questo annuzza che facciamo noi e agli altri in questo senso quindi per non provarci ecco e a proposito anche per provarci ci vuole ci vuole insomma ci vuole il desiderio di ci vuole il desiderio di farlo ecco il proprio livello di tono di contemplazione di tempo per noi io ti chiedo anche simona lettrice lettrice di anna maria ortese quali titoli ci consiglia a questo punto se i nostri lettori volessero cominciare a scoprire questa scrittrice dopo averla scoperta dentro al tuo romanzo allora mi abbiamo già un po chiacchierato intanto probabilmente proprio per iniziare propongo corpo celeste di cui ti ho detto che un libretto piccolino edito da delfi che la casa editrice che ha veramente valorizzato tutto il percorso narrativo di anna maria ortese che un insieme di riflessioni di articoli di elevatissima capacità visionaria in cui anna maria ortese si racconta e racconta anche il proprio mondo interiore ed è profetica perché parla di dinamiche che lei già intuiva in quegli anni siamo negli anni settanta ottanta perché alcuni questi articoli hanno quella data e che avrebbero decretato anche lo sfaldamento valoriale del nostro mondo lei lo intuiva già in quegli anni perché vedeva il decadimento della parola ed era consapevole che laddove l'altezza della parola la sacralità della parola decade decade anche il mondo morale e lei questo l'ha saputo raccontare molto bene quindi innanzitutto corpo celeste i grandi romanzi sono bellissimi ma probabilmente il più adatto ad essere percepito in prima battuta è il cardino addolorato che però è uno dei romanzi della maturità di anna maria ortese se invece si vuole un attimino scandagliare tutta la sua biografia io consiglio il porto di tolledo perché in realtà è la narrazione di tutta la sua vita tra i romanzi più visionari l'iguana una storia deliziosa ma anche molto profonda sulle sulle dinamiche anche del mondo editoriale e del mondo attuale e perché anna maria ortese fa vivere ad una iguana vestita da donna una vicenda anche dolorosa anche ferita e questa iguana rappresenta una creaturina che in qualche modo si fa carico dei dolori e delle ingiustizie del mondo patite dagli ultimi dai defilati e anche dagli animaletti che le chiama le piccole creature e poi che dire per esempio un bellissimo racconto è il monacello di cui anche nel romanzo troverete traccia che è una storia legata ad una tradizione napoletana napoli si pensava che in tutte le case vi fosse un piccolo monaco una specie di folletto che però non si palestava non si rivelava e che si nascondeva tra gli armadi lei racconta un'esperienza di una bimba che invece incontra questa buffa creatura ma anche lì è un incontro che serve a raccontare sempre la sofferenza dei diversi di coloro che non vengono accolti dalla società e poi non può mancare il mare non bagna napoli che è stata la raccolta di racconti che ha segnato proprio grandissimo ingresso di anna maria ortese nell'ambito letterario lei aveva esordito negli anni precedenti con angelici dolori ma è stato anche la raccolta di racconti che forse le ha creato più problemi a livello editoriale a livello anche di plauso del pubblico c'è poi il romanzo con il quale lei ha vinto il premio strega che uscì nel 1967 si chiama poveri e semplice della storia della sua vicenda amorosa con un giornalista dell'unità che si chiama si chiamava marcello venturi e di cui anche nel romanzo si parla è della storia in fondo di un amore anche di un disamore di dinamiche di coppia molto difficili e travagliate anche per gli anni in cui questi due amanti vivono senza in fondo riuscire a a concepire davvero una una coesione di coppia e in più c'è la prosa magnifica di anna maria ortese che visionaria che è alata e che con una parola a lei tanto cara potremmo dire che è celeste infatti corpo celeste deriva proprio dal fatto che uno dei colori hai fatto proprio una panoramica una panoramica guarda che cosa straordinaria e io mi permetto allora di agganciarmi nel ringraziarti anche per il tuo stile che io suggerisco ai nostri lettori perché è veramente credetemi è splendido sia nelle parti mimetiche sia nelle parti dedicate alla grande scrittrice nelle lettere insomma avrete vari respiri ma sempre tantissima vita e tante emozioni quindi grazie mille per essere stato grazie a te testo romio grazie ti aspetto al prossimo libro eh guarda che ci sento senza altro questo è appena uscito insomma certo troppo eh troppo chi ora incanto a tutti grazie grazie a te grazie di tutto